OpenSiltMap e Wordpress Sto cercando di migliorare, in vista del Piemonte Visual Contest, un po' Monferrato Paesaggi e la sua relazione con OpenStreetMap Bene, vi faccio vedere un po' cosa sto facendo Ormai lo conoscete, il sito Monferrato Paesaggi Allora, ci sono 300-400 punti di interesse L'obiettivo è inserire tutti questi punti di interesse O perlomeno la maggior parte dei punti di interesse come chiese, castelli, punti di osservazione E soprattutto gli infernotte nella mappa di OpenStreetMap Allora, per facilitare questo meccanismo Allora, prima di tutto l'idea è Quando noi andiamo su un punto di interesse Ad esempio andiamo nel percorso di miniere Andiamo su un comune Prendiamo un punto di interesse Tipo la chiesa di San Grato Qua a destra ci tengo a mettere il punto di interesse su OpenStreetMap Quindi la cosa più facile che potrebbero fare Potete fare anche tutti voi Aprire OpenStreetMap OpenStreetMap va su... Cioè il link di WordPress va su OpenStreetMap Se effettivamente c'è già comunque l'edificio Ho attivato una procedura che vedremo alla fine della presentazione Che permette di leggere automaticamente in questo punto se ci sono in questo caso chiese Altrimenti si può inserire Qua viene segnalato che la chiesa di San Grato è esattamente in questo punto E noi, e chiunque, può andare su OpenStreetMap E mappare quel punto di interesse Per dare un po' di struttura E comunque facilitare questa operazione Quindi, ok, devo andare lì a cercare tutti i punti di interesse No, ho creato un elenco La creazione di un elenco di tutti i punti di interesse con WordPress È un lavoro abbastanza semplice Bisogna creare delle pagine come quella che vedremo adesso Qui ho fatto elenco poi per categorie Qua mi viene tutto l'elenco dei punti di interesse Suddivisi per categorie Andiamo su edificio religioso Aumento un po' Questi sono gli articoli, i punti di interesse Che già sono presenti in OpenStreetMap Ad esempio vado su Chiesa Parrocchiare di San Lorenzo Martire Qua mi dice Questo elemento è già mappato su OpenStreetMap Ed è correttamente collegato A questo articolo Infatti se apriamo OpenStreetMap Anche se non fosse collegato Comunque qui è correttamente inserito in OpenStreetMap Tornando indietro Invece un altro edificio Come ad esempio quello che abbiamo visto prima La chiesa di San Vittore Non è collegato ad OpenStreetMap E qua viene fuori il messaggio Questo ovviamente non è mappato in OpenStreetMap E mediante una query Mediante le API Tiro fuori le informazioni che ci sono l'intorno Quindi Lui trova qualcosa Trova sulla mappa di OpenStreetMap Questi nodi e quest'away Probabilmente Una di questi nodi e di quest'away È esattamente la chiesa di San Vittore Possiamo verificare qua Se è stata mappata o meno La chiesa di San Vittore Qua c'è una croce Ma comunque proseguiamo E andiamo ad aprire nella nostra scheda Esattamente questa way Lui, dopo faccio vedere un attimo il codice Cerca le way e anche i nodi In questo caso La way potrebbe essere fatta da più nodi E quindi trova tutto quanto Non mi sembra che Questo sia La chiesa di San Vittore Ma tutta più è sicuramente quello Allora niente Perché lui fa una ricerca un po' allargata Delle categorie proprio Però già infatti Io sto cercando un away Invece qua si vede subito Che è un punto Quindi non è l'away Ma è uno di questi nodi Le vediamo una alla volta Questo è il nodo del cimitero Questo è l'altro nodo del cimitero Ancora Vediamo se L'ultimo L'ultimo ci va A vedere esattamente Che è la chiesa di San Vittore Quindi noi non facciamo altro che Guardare questo nodo 3, 3, 4, 2, 6, 6 Lo seleziono qua 3, 3, 4, 2, 6, 4, 2, 9 Aggiungo Viene fuori un messaggio Che è stato inserito nell'articolo Esattamente questo nodo Se faccio Aggiorna Mi troverò Che questo nodo Che questo articolo Che questa chiesa di San Vittore Adesso è finalmente mappata Se io clicco sul link Mi va esattamente A vedere l'oggetto Niente Ho fatto questa Questa importazione Questo meccanismo Poi ho anche Sviluppato Anche una mappa Per vedere i punti di interesse Quante Quanti Articoli mancano Sulla Nostra mappa Di OpenStreetMap Quelli con la stellina Sono correttamente Inseriti Sicuramente Ne mancano Un bel po' Però Questo qua È già un passo avanti Io posso selezionare Tramite questa cartina Beh Dai ce ne sono Un bel po' Mappati in OpenStreetMap In questa cartina Quelli che hanno l'icona Non hanno il link Ad OpenStreetMap Io posso Prenderli E aprirli Questo è un punto di veduta E Mentre Questo Anche lui Ha il link Però volevo farvi vedere Più che altro Che qua Ho raggruppato Per facilità Ok andiamo su OpenStreetMap No questa non è una pagina Provata OpenStreetMap Lui mi dice È qua Quello che stai cercando È qua Però sarebbe più facile Proprio cercarlo Attraverso l'articolo E comunque vabbè Ho creato questi Due strumenti Che mi permettono di Navigare un po' Nei punti Fare un po' La checklist Dei punti Inseriti Prima di vedere Un attimo Il codice Che ho utilizzato Anche perché La spiegazione Di questo Deriva direttamente Dalla API Non mi ricordo L'indirizzo Quindi vado subito Sull'articolo Mi connetto Non è il mio sito Monferrato Paesaggi VPContent Tem Ormai dovreste Essere abituati A vedere Questa struttura Di file E se non ricordo male È in articolo No Non è in articolo Ma l'ho messo Nella funzione Una delle ultime Funzioni Che ho fatto Vediamo qua Esattamente questo Allora Prima di farvi vedere Un codice Che Facciamo Un bel A capo Andiamo a vedere Da dove ho preso Questa informazione Ripasso Qua Lui mi indica Di andare In questo sito Di overpass API In language E guida Trovo tutti i riferimenti Che mi dice Ok Cerca il nodo In questo box O se no Cerca Il nodo Con un name Specifico Quello che ho utilizzato Io È Questo Ho definito Node Amenity Firestation In questo caso Io ho fatto Node Amenity Place Worship O comunque Castle Dipende dall'articolo E poi Il box Ho definito Il box E in questo caso Il box Viene definito Dal centroide Quindi Da dove è posizionato Il punto di interesse Più Un Un discostamento Di 005 Che in VGS 84 Sono un centinaio Di metri E poi niente Tutto qua Faccio Costruisco Questa interpretazione Se in ogni tipologia Edificio storico Edificio religioso Faccio una variabile E prendo Sia i nodi Con questo box Che hanno Questa categoria Sia le way Le prendo tutte e due Le passo in Le considero Come se fosse Un array E le prendo Come un file Con questa funzione File get content Tipo osm Esattamente Questo E poi Con un for each Prendo le varie Informazioni Che mi servono Che mi creano Il link Questo È un codice Abbastanza semplice Che Ci permette Di facilitare Un po' Le operazioni Di mappatura Ho un ultimo accorgimento Fatto che Solo se Gli user Sono Abilitati Vedono Quel messaggio Che viene Lì fuori Da parte Così Non appesantisce Tutte Le varie Visite Niente Tutto qua Vi ricordo Qui Wiki OpenStreetMap Overpass Api Language Guide E questo Mi permette Oggi Ho In Tre ore Più o meno Fatto 170 Modifiche Quindi Ho bene o male Messo Tutte Le query Il mio profilo Se siete curiosi Di tutte Le informazioni Che Ho Inserito È Comunque PJUKER Ecco Il mio profilo E Tra l'altro Con Così Tante Modifiche Avevo un po' Paura Quando Ho fatto Il salvataggio Ma Non c'è Stato Nessun Nessun Problema Le modifiche Le ho fatte Con L'editor ID Questo qua Che Mi permette Di Usare Subito Le Fare subito Le modifiche Senza Utilizzare JOSM E Il mio Ultimo Change Set E Questo Finito 171 Modifiche In 3 ore Sono andato Un po' Tutto in giro Per Il Monferato Ho fatto Tutte Queste Modifiche Mediante Questo sistema Vedevo Dove Era Il Punto E poi Inserivo Semplicemente Una Qui Inserivo Un punto Sulla Chiesa E Le dicevo Amenity Place Or Cattolic Il nome E La religione Tutto qua Se avete qualche domanda Fatela pure Ciao Alla prossima Ciao